La Lazio 2 a 1, ma ve lo siete strameritato, perché rispetto a tante altre partite ogni ripartenza è stato un dolore per la squadra laziana, vista bene la partita. Sì, è vero, siamo stati molto bravi innanzitutto a stare di piego, solidi e compatti. Poi nelle ripartenze sono stati devastanti, ogni ripartenza con gli esterni in forma che avevamo, abbiamo anche Andre Calabino che ha acciato molti palloni, quindi è stato molto importante per farci salire. Poi ci ha premiato alla fine questa voglia di andare e anche di fare risultati. Ecco, sulla corsia di sinistra ci ha messo il peso massimo, ma tu non hai avuto paura di nessuno, anzi tra te il giovane Pereira l'avete saltato 4-5 volte, andate a creare veramente quella superiorità che serviva nelle ripartenze. Sì, dai, ci siamo messi là dietro, Pedro è appena arrivato, però appunto appena ho detto appena entrato in campo, ho detto fai quello che sai fare, perché fisicamente è un animale, quindi va là sulla fascia, dovete ancora amalgamarsi un po' con noi, però lì siamo stati veramente solidi, come tutto, da sia a destra che a sinistra, al centro, siamo stati veramente grandi.